Se siamo arrivati a questo punto è perché c'è il dubbio, quindi non è ancora detto che possa essere o non essere Francesco Vinci. Io le dico semplicemente questo, siamo arrivati a questo punto perché Vitalia Meris, moglie di Francesco, che io conosco da tantissimi anni, con la quale mi concerto e ci siamo frequentati per ragioni di indagini, che è una famiglia che ha 3.000 cose, a parte la morte di Francesco, la morte anche del figlio, che è anche lì piuttosto misteriosa la morte, che è venuta a Castelfiorentino. E non mi aveva mai parlato di questa cosa qui e un giorno mi chiama e mi dice Davide puoi venire qui che ti devo parlare. Vabbè, prendo la macchina e vado a trovare Vitalia a casa. Dice, guarda, quello che sto per dirti non l'ho mai detto per tanti anni. Ho il sospetto che Francesco sia vivo. Dico, ma Vitalia, ma Francesco è morto, sepolto, tumulato. Dice no e lei racconta due, tre episodi particolari. Uno lo posso dire perché ormai è Coran Populi e quindi lo possiamo anche dire. Ed è quello che lei mi ha raccontato, dice che si trovava alla fermata dell'autobus e lì si è affiancata a una macchina. E lei giustamente come tutti guarda dentro la macchina per vedere chi è che lì si era affiancato. Dice, guarda, fra un po' stramazza al suolo perché ero convinto, scusate. Quindi lei arriva a questa macchina, si affianca, lei guarda giustamente dentro l'abitacolo e vede quello che per lei era Francesco. E lei rimane veramente, come dire, basita da questa visione. Tant'è vero che lui gli fa un cenno con la mano e se ne va, con molta calma. Io a quel punto dico, ma Vitale, avrei avuto delle allucinazioni, insomma. E lei mi dice, no. Dice, guarda che io conosco bene mio marito, quindi so com'è e chi è. Dico, potrà sia visto un'altra persona che somigliava. Dice, no, no, era mio marito. Lei era ed è ancora convintissima che la persona che ha visto nell'abitacolo e la macchina fosse proprio Francesco Vinci. Ora, se lei non ha avuto le visioni, ora se lei non ha avuto davvero perché, anzi, una cosa devo dirla, subito dopo ad aver visto Francesco, lei si è precipitata dai carabinieri, dicendo, ma com'è possibile, ho visto mio marito. E i carabinieri dice, guarda che signora, che suo marito, lo hanno ammazzato, incaprettato e dato alle fiamme. Cioè, quindi non può essere certamente Francesco. E lei si è tenuta questo mistero per tanti anni. Tenga presente che Vitale è la donna dei mille misteri dietro alla Francesco, alla storia del mostro e tutto quello che vogliamo. Misteri che sono uscito a carpire un po' alla volta, come dire, con molto tatto, perché è una donna sensibile, ma al di là della donna sensibile c'è anche, come dire, una certa cultura della riservatezza, è una cultura molto tipica sarda, che sono molto riservati. Lei in modo particolare. Quindi riuscire a carpire certe informazioni non è stata una cosa abbastanza semplice. Ora vedremo stamattina, attraverso la Procura, che ha sposato in pieno, perché noi volevamo fare questa operazione quasi per conto nostro. Io, diciamo, ho accolto con piacere, con estrema, come dire, posso non fare altro che ringraziare. La Procura deve essere stata rapidissima nel muoversi e accertare questa cosa qui. Quindi vuol dire che la Procura ha necessità di fare anche da parte sua degli accertamenti. E la cosa che posso dirle è una che a me interessa si sapere se Francesco Viva è morto, anche perché, diciamo, i fratelli Vinci, perché forse lei non sa che Francesco aveva un fratello che si chiamava Salvatore, anche lui è entrato, uscito nella storia del mostro di Firenze, però era stato dato per morto. L'aveva fatto dire ai familiari che lui era morto per un male al fegato in Spagna. Dopo le vicissitudini di tipo giudiziario lui era partito e si era trasferito in Spagna e lì sarebbe morto per un male al fegato. La cosa strana è che non c'è un certificato che ci possa dire che lui è morto. Però io ho fatto successivamente altre indagini. Tra parenti sono stato in Spagna a cercarlo. Credo di sapere dov'è. Le posso dire, e questo con estrema precisione, se i documenti sono, come dire, rispondono al vero. Lui sarebbe stato fermato all'aeroporto, l'interno di Salvatore, il fratello di Francesco, sarebbe stato fermato all'aeroporto di Roma-Fiumicino con un volo proveniente da Madrid. Fermato perché aveva problemi di documenti, quindi la polizia di Roma-Fiumicino l'ha fermato e c'è un verbale che dice che lui è arrivato da Madrid. Quindi sappiamo per certo che se è arrivato da Madrid è un morto che non è morto. Quindi c'è nella famiglia Vinci, soprattutto nei fratelli, questa tendenza, chiamiamo così, a farsi passare per morti. Non so se Francesco si sta facendo passare per morti o no, ma lo scopriremo presto dall'esame del DNA. Ha ragione la domanda che mi sono fatta anch'io, però involontariamente le ho già dato la risposta. Vitaria è una donna molto ermetica, è difficile tirarle fuori qualche informazione. Però diciamo un pezzettino alla volta, probabilmente stavolta deve essere successo qualcosa che io non so a questo punto qui, per arrivare a questa determinazione. E vorrei vederci chiaro in tutte le maniere, quindi poi torno a ripetere, se non è Francesco, la cosa si chiude lì, se non quello di prelevare il DNA e poi valutarlo, se puoi rientrare alle indagini nelle mostre di Firenze. Io ritengo che ci entri e come se ci rientra. L'altra cosa è se non è lui, è chiaro che qui abbiamo un morto in più, è un cadavere, anzi, un cadavere in più e un morto in meno. Nascerebbero dei problemi enormi, perché se veramente quel cadavere non corrisponde dal cadavere di Francesco, chi era, o meglio, chi è la persona che è dentro quella tomba che corrisponde al nome di Francesco Vinci. Il CTU, da quanto mi è parso di capire, il CTU si sono presi il tempo necessario, quindi 90 giorni, salvo il vero. Comunque, 90 giorni sono necessari per avere un quadro della situazione. Prelevato, come dire, hanno analizzato il DNA e naturalmente, come dire, amplificato il DNA di quel cadavere, che poi vedremo di chi è, verrà campionato e analizzato e confrontato con quello del figlio che è già stato preso il suo DNA. Lui ha accettato, ben volentieri, di sottoporsi a questo esame. Quindi verrà valutato e confrontato con il DNA del figlio. Se corrisponde, geneticamente corrisponde, chiusa la trasmissione e non se ne parla più, se non quello che dicevo prima, che la procura farà le analisi di valutazione sui campioni di DNA trovati nei luoghi del delitto, dei delitti attribuibili alla mostra di Firenze, in modo particolare credo a delle cartucce e qualcosa sulla tenda dei ragazzi francesi. e quindi qui incrociamo le dita. Se non ha nessun riscontro, né da una parte né dall'altra, vabbè, abbiamo fatto un accertamento che Vitalia vuol dire che ha avuto le traveggole. Posta da 1 a 10, 11. Le dico di più. Allora, Francesco è stato, secondo me, l'uomo più scarognato della storia, perché era, prove approvate, era sempre vicino ai luoghi dei delitti, in tutti i delitti. Io ci ho scritto un libro apposta. Tranne quando era in prigione, ma lì abbiamo un diritto anomalo, ed è quello dei ragazzi tedeschi, due uomini. Ma la procura all'epoca, che non dormiva e non dorme, sospettava che potesse esserci un complice. Ecco perché non lo ha liberato subito. Poi c'è stato un altro diritto, a quel punto la procura ha dovuto, come dire, ob torto collo, fare di necessità virtù e fare le cose che avevano fatte. Io ritengo che, ho detto undici, forse anche dodici, tredici, da una scala a una dieci. Sono parecchi misteri legati a questo uomo qui. È un uomo molto misterioso, un uomo, come dicevo prima, tra virgolette, sfortunato. Perché sfortunato? Perché lui si è sempre trovato nei paraggi di tutti i delitti.